benvenuti all'edizione settimanale delle ansa dg entertainment un saluto a tutti quelli che sono molto molto webatici ma anche soprattutto ai tantissimi sempre più grazie che ci seguono in tutta la campania molise passo lazio basta digitare il canale 94 del digitale terrestre su tv 7 digital ma voi vedete cataloghi vedete vaganze vedete mare e non soltanto insomma tutto ciò che vi può ridare risanare dallo stress noi abbiamo la soluzione è sempre ora di cosimo lombardi viaggi beh questa edizione in onda dalla nuova sede a benevento in città corso dante 27 insomma piazza santa maria duomo insomma nel cuore della città per darvi tutte le news beh ve l'ho detto che è sempre ora di cosimo lombardi viaggi è la sede storica quella di pietrilcina in via nazionale 1 e poi c'è anche un sito web in ristrutturazione ora perché lo stanno rendendo molto 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 più cosimo lombardi c'è un'altra cosa non è una gossipata l'unico lombardi viaggi doc denominazione di origine controllata e garantita e questo qui è a benevento in corso dante 27 sai che la cucina di landulfi è aperta fino alle due di notte? l'andulfi.it l'andulfi.it beh ora però sarete curiosi degli appuntamenti dell'entertainment innanzitutto un grazie al gran caffè Farnetum a Fragneto Monforte dove si è tenuta la presentazione del casting del tour nazionale di Miss Mondo Italia prossimo appuntamento tappa di selezione questa volta non casting è per venerdì 9 maggio Nocera Salerno poi subito ritorneremo nel Sagno e precisamente a Ponte e a Padulli non vi svelo ancora dove un altro appuntamento è quello con i clubbers quello del club in store sempre in diretta tutti venerdì notte anche per venerdì con il festino questa volta on stage saranno Sisio e con i clubbers di Qtune di Kess Records Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.